e ritenuti alla Bala dell'Ete per la quinta gara del Campeonato Nazionale di Serie A. In mano c'è il riscattore, ora questa sera è Trieste, uno delle squadre più titolari di Palli. Ringraziando come sempre il pubblico della Bala dell'Ete e il nostro sponsor, auguriamo a tutti un ottimo attivino e procediamo alla presentazione delle squadre. Per la quinta gara del Campeonato Nazionale di Serie A. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. . . Grazie a tutti. . . . . . . Grazie a tutti 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 Grazie a tutti